Laura Tagliaferri, Diego Battistessa e Sergio Radaegli hanno pubblicato qualcosa in potere al popolo, Laura Tagliaferri su Facebook. Laura Tagliaferri 8 agosto 2016 alle ore 21.34 La quasi totale e sorprendente indifferenza della nostra opinione pubblica ha accolto la notizia del mandato di arresto, con motivazioni costruite ad arte, di Ebede Bonafini, la più nota delle dirigenti del Movimento delle Madri di Plazza De Maio, che con tanto coraggio, negli anni Ottanta dello scorso secolo, aveva denunciato al mondo i crimini della Giunta Militare Argentina e la tragedia dei desaparecidos. L'incredibile richiesta di arresto di una donna di 88 anni, che sta suscitando l'indignazione e la mobilitazione dei democratici argentini è l'ennesimo atto di arbitrio del governo di Mauricio Macri che, con l'appoggio dell'imperialismo statunitense e dei suoi alleati europei. Renzi è stato il primo capo di governo occidentale e ad omaggiarlo, sta velocemente riportando il grande paese latinoamericano ai tempi più cupi della sua storia.